Non ti ho interrotto, Maratin, anche se lo avessi fatto ti avrei fatto un favore perché sei inguardabile o è inascoltabile. No, scusate, parliamo e teniamo il dipante di decenza, sei inguardabile contenutisticamente, di sicuro non faccio riferimenti estetici, ho ben altri gusti Maratin, Ma il punto è perché secondo me non è complessa la realtà Maratin, perché tu fai parte di un governo che non c'entra niente con te, intanto perché non hai sostanzialmente un'esistenza politica, ma perché tu fai parte di Forza Italia, cioè tu devi stare all'opposizione con Forza Italia.